Ecco a voi il potente martello perforatore GVH328DFR Professional che vi offrirà la maggiore potenza di scalpelatura fra tutti i martelli perforatori della sua categoria. La potenza di scalpelatura superiore del 20% rende questo professional vincente sulle piastrelle. Anche nel calcestruzzo raggiunge un elevato avanzamento nella foratura. Il sistema Vibration Control Bosch assicura una potenza ai massimi livelli e vibrazioni ridotte al minimo. Grazie al mandrino sostituibile in pochi secondi potrete passare da SDS Plus al mandrino autoserrante per poter lavorare comodamente senza percussione nel legno e nel metallo. Grazie al GVH328DFR Professional avrete potenza ai massimi livelli e vibrazioni minime.